Seconda volta che la giro, sarà quella buona? Dai sì, per forza Questa serie mercoledì, che va forte su Netflix, ormai c'è il meme del balletto di lei alla festa Quindi ormai c'è una seconda stagione, come annuncia il finale, mi è piaciuta, non mi è piaciuta, via di mezzo Perché poteva essere molto di più, non è malvagia, non è una cosa inguardabile, però sicuramente ha dei difetti notevoli Il primo è essere un tindrama molto facilone, molto semplicistico nella storia, che è di un prevedibile da far schifo E io non sono mai stato fan dei film, ma non penso sia necessario vederli e conoscere la storia della famiglia Adams Perché onestamente è un film su una tizia che si chiama Mercoledì, c'è una mano che gira per la scuola Ma i genitori quasi non vengono mostrati, il fratello ha tre scene, c'è lo zio Fester, un episodio Quindi alla fine non serve a niente e questo essenzialmente è anche il collegamento che uno si fa guardando E si chiede, ma Netflix ha usato il brand della famiglia Adams, ma non c'è un cazzo Salve sono Alcarina Hammer, benvenuti, iscrivetevi al mio canale mi raccomando Perché porto i contenuti della settimana, il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio Oggi Pinocchio di Del Toro in anteprima, anche se uscirà su Netflix la prossima settimana E le ultime uscite Quindi, non perdiamo tempo, visto che ho parlato per sette minuti prima come uno scemo Ma lo sto rifacendo ora Ora non mi sbaglierò più, perché prima avevo aperto una parte spoiler improvvisamente E quindi non ho potuto dire alcune cose in parte no spoiler Ok? Faccio una piccola parte spoiler alla fine No spoiler Il prodotto, tecnicamente, è molto molto valido Mi è piaciuto, ci hanno spesi soldi I primi quattro episodi sono diretti da Tim Burton E si vede Gli ultimi quattro, sia a livello narrativo che registico Non sono all'altezza dei primi, ma non sono neanche inguardabili Sa nel quinto, che è davvero brutto come scritto È stato anche interpretato, nonostante i bravi attori Nonostante sia diretto dall'altra tizia C'è un'altra tizia che ha girato gli ultimi quattro, mi pare Che è stata brava nel sesto, settimo, ottavo, ma nel quinto No, il finale è molto deludente perché è un plagio di Harry Potter Nella parte spoiler dirò perché Ma ci sono tutti gli elementi di Harry Potter Tutti dal primo all'ultimo Hanno cambiato i nomi Hanno detto, una bella sta storia Adesso la rifacciamo noi Però ci mettiamo mercoledì al posto di Harry Potter Eccetera I momenti dati in drama Vincono su tutto E quindi rendono questa storia fin troppo banale Fin troppo prevedibile Con dei presunti colpi di scena Che non sono colpi di scena Perché lo capiamo quasi immediatamente Si cercano di fregarti Su un paio di cose Ma poi hanno paura Che il pubblico non capisca Dei bambini e dei ragazzini E quindi ti mettono gli spiegoni E ti dicono che è lui l'assassino L'hai capito che è lui l'assassino Aspetta che te lo dico altre tre volte nel prossimo episodio E quindi questo fa perdere molto Gli attori sono bravi Come detto li dico Genna Ortega è stata brava Nel essere una che ti fissa Per nove volte su dieci E ti fissa male E si emoziona Ride Piange Forse piange no Ma Ride Si diverte Eccetera Nei momenti giusti della narrazione Quindi quando il personaggio di mercoledì Dovrebbe farlo almeno in questa storia Poi c'è Gwendolyn Christie Che era quella di Game of Thrones Fa la preside Brava Ricky Lindholm Che fa la psicologa Lo sceriffo mi è piaciuto molto Hunter E Persi Che diciamo Creano il triangolo no Non l'avevo considerato Con Con Genna Ortega È un team drama Ve l'ho detto Anche se siamo in uno spoiler Sono bravi Sono tutti bravi Anche la sua compagna di Di stanza Che rende tutto più vivace Quindi è interessante Il contrasto fra lei Che è nera In tutti i sensi Non di carnagione Nera come animo Nera Come veste Nera come vi pare Rispetto ai colori E qua torniamo al lato tecnico Che è piuttosto È molto discreto Anzi buono Cioè Cristina Ricci Che cosa faceva? Ah Marilyn Tornil Ah ok Perché le sono chieste Per tutta la serie Ma che cazzo ci fa qua Cristina Ricci Dov'è? Ah ok Perché Cristina Ricci È la È la vecchia mercoledì Per quella che Chi lo fece nel 1992 93 Eh ok E questo Essenzialmente questo È un ruolo carino Anche quello di Joy Sunday Che è bianca Questa sirena Con cui c'è uno sconto A scuola Ovviamente È un mercoledì Con chi è più Girl Power Ok Quindi Nel complesso Ci hanno messo passione Nel progetto C'è da dirlo questo Però Non convince Cioè se sei un Un quindicenne Dici wow Capolavoro Però Se ti aspetti qualcosa in più Se hai visto Un paio di misteri Un paio di gialli Se hai visto un paio di Tin drama Non ti sorprendi Anche l'horror Tra virgolette Molto Edulcorato Non è che faccia davvero paura Ci sono momenti Un po' inquietanti Creepy Soprattutto quando c'è Tim Burton Quindi dai Tutto sommato Consigliato per una visione Molto molto leggera E non Vado in una piccola parte Spoiler Farò cinque Il mistero All'inizio è interessante Perché tu dici Chi è questa figura Hanno tutti i poteri Però questo sembra Essere diverso Ma l'avevo capito Che era una Aberrazione Perché legata alla scuola Perché poi Il ruolo della preside Della tizia di Game of Thrones La Christie È interessante Ma un po' Troppo spoglieroso Perché fa delle cose Cioè Gli episodi ci mostrano Che lei può diventare Invisibili Che può cambiare aspetto Non ce lo devi mostrare Perché se no Io capisco tutto Capisco che lei Sta coprendo la morte Del tizio Perché non vuole Che si sappia politicamente Che c'è stato uno scandalo E quindi di conseguenza C'è stato uno scandalo Legato A un evento Di trent'anni prima Cioè Gli indizi sono Fin troppo evidenti E Questo non ne giova La narrazione E Per forza Poi Appena vedi La tizia con i capelli rossi Ti fai un'idea Perché Il tipico personaggio Che Sembra simpatico Ma non lo è Torniamo al plagio Di Harry Potter Perché è palese Abbiamo anche qua Voldemort Che rinasce E deve essere sconfitto Nel finale Con la spada Di Grifondoro Mi verrebbe da dire E anche lui Come Voldemort Il nostro super Il nostro super Stantone Che vuole uccidere I reietti Che cosa fa Muore fra mille Specie di coriandoli Poi abbiamo Le quattro casate Le prove Per prendere i punti Abbiamo Sì Lei non è Harry Potter Anzi È il contrario Di Harry Potter Ma ci sono Quelle dinamiche Tipiche Dove Un gruppo Un trio Perché c'è un trio Lui Lei E la sua compagna Di stanza Che sono un po' diversi Però sono Quelle dinamiche Lì Allora Diciamo che Se fosse un Harry Potter Dove Hermione È a capo del gruppo Si avrebbe Il tutto Ok Poi c'è la C'è la McGranit Palesemente Che è un po' La preside Anzi Siamo anche un po' Silente La preside E poi abbiamo La Vabbè L'insegnante Quella Delle Delle Mandragole Che qua Cioè ci sono scene Che proprio sono riprese Il mistero Non è un vero mistero Ed è troppo derivativo Da Harry Potter Secondo me E funziona poco Sulla lunga distanza Questo mi è un po' Deluso Peccato È come se Dopo La lontananza Di Barton La serie Fosse diventata Un po' Prevedibile Mi ricordo Ecco Per esempio Il mostro Mi ha ricordato Un po' Lupin E il fatto Che diventi Lupo Mannaro E che non si riesca A controllare Poi il caso Di cent'anni Prima Insomma Dai Un po' Così Vabbè Vabbè Detto questo A voi È piaciuta Scrivete Qua sotto Ciao Scrivete